L'incontro è andato bene nel senso che abbiamo esposto al Presidente Mattarella quali sono i temi sul tappeto principali per le regioni. Ovviamente c'è un tema molto importante di risorse perché le regioni in questi anni di crisi hanno saputo tagliare più di quanto ha tagliato il governo centrale. Quindi una riallocazione delle risorse, un riequilibrio in questo senso, visto che gestiamo i principali servizi ai cittadini, si impone. Un tema è dato dalla riforma costituzionale in discussione alla Camera in questi mesi e quindi dall'attribuzione di competenze tra state e regioni, che io credo debba essere oggetto di una riflessione, perché se tutto quel che c'è nel federalismo non ha funzionato, è pur vero che tutto quello che si accentra nel governo centrale spesso non funziona allo stesso modo. Quindi un equilibrio nuovo va trovato, ma va trovato frutto di una mediazione tra le amministrazioni.